A costruire un violino ci vogliono 300 ore. Si può fare anche in qualcosina in meno però con dei rischi. Ho iniziato per puro caso. In realtà ho costruito 28 violini, due viole, due violoncelli, tre contrabbassi e due violi da gamba. Il violino ha bisogno di cura, più all'interno che all'esterno. Quindi quello che non si vede è la parte più curata perché sennò i risultati sono scadenti. A me piace provare e ho usato molti tipi di legno. Ho iniziato con l'acero dei Balcani, poi ho deciso di passare ai nostri legni. Acero Montano, Platano, Pioppo Nero, addirittura ne ho fatto uno di tasso. Quando vai a cercare il famoso fa, la nota che ti dice che hai raggiunto il top dello spessore. Questa è la fase che mi piace di più. Io non lo faccio né per diventare ricco né per diventare famoso. Faccio per soddisfazione personale. A me piace molto il quintetto. Ho già fatto una decina di concerti e tutte le volte migliorano. Più il suono, più lo strumento migliora. Diciamo che mi emoziono sempre. Grazie. Grazie.